La riserva danunziana da restituire alla città l'imperativo d'obbligo dell'amministrazione comunale di Pescara che oggi ha presentato novità sulla pineta devastata come noto quest'estate dal terribile incendio. Il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli con altri esponenti dell'amministrazione e alcuni rappresentanti del gruppo tecnico scientifico di lavoro voluto dal primo cittadino hanno parlato del futuro del polmone verde della città. Sì, ma oggi noi non annunciamo soltanto i lavori che si faranno dentro la pineta danunziana per avviare il risanamento e la riqualificazione. Annunciamo anche due notizie che credo siano rivoluzionarie per questa città. La prima è che abbiamo avviato la procedura di esproprio di 13.000 metri quadrati della pineta all'interno del galoppatoio, quell'area che tutti quanti hanno detto sempre deve tornare al comune di Pescara, bisogna agire, bisogna agire, però nessuno mai si è mosso e noi abbiamo avviato la procedura di esproprio, 13.000 metri quadrati. In più abbiamo avviato la procedura di esproprio della casa della ferrovia che c'era al centro della pineta danunziana in corrispondenza di via della Bonifica dove un privato stava iniziando a realizzare una villa. Ovviamente quell'area rientrava e rientra dentro il PAN, il piano di assetto naturalistico, c'era una previsione non di una villa privata ma di un'area ovviamente a disposizione del pubblico e anche lì abbiamo avviato la procedura di esproprio. Il galoppatoio misura circa 50.000 metri quadrati, per adesso ne espropriamo 13.000 ma a seguire proseguiremo per espropriare tutta quell'area affinché diventi patrimonio vero della città di Pescara. Cerca la riapertura dei comparti 3 e 4. Penso che entro la fine del mese di febbraio riavremo la pineta aperta alla nostra cittadinanza. Tutta? Il comparto 3 e il comparto 4, che erano fruibili in quanto il comparto 5 era chiuso e stiamo preparando i lavori anche per dare una pulizia anche a quel comparto. Il comparto 1, come ha detto adesso il sindaco, faremo questo esproprio. Invece il comparto 3 e 4 lo rimetteremo a disposizione della cittadinanza messa chiaramente in sicurezza. Abbiamo fatto un progetto, abbiamo avuto l'ok da parte della sovrintendenza e da parte della regione e sul suggerimento degli esperti che il sindaco ha nominato, a giorni cominceremo la pulizia del comparto 5. Grazie. 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 Grazie.